gentili telespettatori buona giornata matteo salvini avvia i colloqui telefonici per scegliere il capo dello stato voi diretti in che senso come fa le consultazioni telefoniche ma ma che vuol dire e me lo sono chiesto anch'io salvini che chiama tutti i leader mettiamoci d'accordo elezione rapida dove devi dove devi andare salvini che hai fretta deve andare in banca imposta perché tutta questa fretta vorrei un'elezione rapida perché hai degli impegni devi andare al cinema sinceramente non l'ho capita non l'ho capita deve esserci una motivazione che non conosco giorgetti dice che a berlusconi la coalizione non basta possibili voti da pd e 5 stelle nella cabina di conte anche di maio e i ministri ma che vuol dire allora matteo salvini aveva detto che da lunedì in poi avrebbe chiamato tutti i leader politici per trovare una soluzione per il quirinale e ha sentito gli altri leader per verificare se sia possibile trovare un'intesa per l'elezione del presidente della repubblica vuol sapere prima se c'è un'intesa in modo da buttarsi completamente con berlusconi cioè lui vuol sapere vediamo se c'è un'intesa prima troviamo un'intesa su quel nome che dice il centrodestra se non lo volete allora noi tiriamo e diciamo di no fino alla quarta votazione dove poi li facciamo passare berlusconi e questo quello che vuole fare salvini sapere prima per spingere berlusconi cioè so prima che non c'è nessun accordo è muro contro muro quindi noi andiamo dritti con berlusconi a me sembra questa l'unica soluzione a me sembra questa l'unica soluzione però tuttavia non mi è chiaro ovviamente che c'è una motivazione quando uno fa qualcosa è perché ha una meta un obiettivo però questo è ancora oscuro mi auguro dice il segretario della lega che tutti accolgano l'invito se qualcuno dirà no grazie non mi interessa oppure con salvini no è libero di farlo però ritengo mio diritto e soprattutto mio dovere provare a trovare una sintesi comune comincia la prima telefonata con il presidente di forza italia berlusconi e poi ha chiamato giovanni toti di coraggio italia giuseppe conte dei 5 stelle nicola fratoianni di sinistra italiana enrico letta del pd matteo renzi di italia viva oltre alla sud tirol falch part time una roba così dovrebbe pronunciarsi per chiudere con giorgia meloni giorgia meloni in fondo no nel senso alvino in tutti i casi dice sono state brevi telefonate per verificare la disponibilità a risentirsi conti ha precisato di ritenere importante il confronto ma solo dopo l'approvazione della manovra richiesta condivisa da letta allora anche questa cosa qui no ne dobbiamo parlare dopo della manovra perché se ne parlate prima cosa succede comincia a piovere nevica ti rovina la giornata se ne e come dire non lo so cosa facciamo il 6 di gennaio ne parliamo dopo natale perché perché si è così e basta no capite che non ha senso no letta e conte dice vabbè ok ci proviamo a mettere d'accordo ma la manovra perché cosa sono lì a casa così concentrati la manovra ma ci dai enrico vieni a mangiare non so dopo c'è la manovra no conte giuseppe 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 andiamo a fare un giro in centro no 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 che giro in centro c'è la manovra capite che non ha senso è una buffonata no giusto per dire di no a salvini no quindi salvini chiede di parlare sì però dopo no è come dire non può vincere facile salvini gli diciamo dopo così rimane lì eh questa è una sorta di psicologia spiccia politica salvini dice che il mio obiettivo è sentire tutti dai piccoli ai grandi per arrivare a un obiettivo comune a me interessa impostare un metodo litigare poco e leggere il presidente della repubblica quanto più velocemente possibile ma perché perché per ora però niente nomi se invito gli altri all'ascolto e al confronto e arrivo col mio nome non mi sembra la maniera giusta di procedere eh se se devi sentire dieci leader di partito di che parlate di aria fritta dobbiamo metterci d'accordo ok tu chi proponi e io ti dico se sono d'accordo se non fai i nomi di che cacchio parli boh un nome l'ha fatto il ministro giorgetti alla presentazione del libro di vincenzo spadafora lo sa anche berlusconi non basta nei voti del centrodestra per eleggerlo al colle serviranno dei voti del pd o del movimento 5 stelle ed è anche possibile giorgetti ma ti devo spiegare io le cose tu che sei trent'anni in politica c'è un gruppo misto enorme di grillini cacciati o persone che se ne sono andate via per non pagare i rimborsi al proprio partito nel gruppo misto ci sono decine 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 di persone c'è bisogno del pd non c'è bisogno del pd c'è renzi con 45 deputati nel gruppo misto ho sentito dire di oltre 100 deputati che sono nel gruppo misto oltre 100 a berlusconi ne servivano 50 quindi caro giorgetti ma che stai dicendo serviranno i voti del pd o del movimento 5 stelle vabbè andiamo avanti con un accenno anche a mario draghi dice giorgetti faccio fatica a immaginare che a inizio febbraio non sia né a palazzo chigine al quirinale quello sarebbe un problema perché dice questo perché se se come cavolo si chiama draghi si propone per capo dello stato e viene bucet dice ma l'anno bucet no è quello poi dice allora io non faccio più neanche il capo del governo do le dimissioni perché sono stato ferito nei miei sogni ma non sto scherzando è se draghi non viene eletto si propone non viene eletto come capo dello stato per rivalsa dice andate tutti a quel paese io vi do le dimissioni e così andate al voto anticipato volevate evitare il voto anticipato per tenermi al 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 qui qui al dove cavolo sono a palazzo chigi e io me ne vado ecco questo è bene grazie a tutti e arrivederci